Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo la lama Ultra High Carbon di Rosselli, in questo che è una mia rivisitazione del Grandfather. E siamo venuti in questo bosco appunto per testare le capacità di questa lama UHC Ultra High Carbon. Andiamo a vedere. Bene, ora iniziamo a vedere la lama in questione. Io ho acquistato solo la lama del Grandfather, perché la lama che mi piaceva di più non è tanto grande, però è larga, insomma è una lama particolare. Mi piaceva fare un modello di coltello simile a quelli che adesso vi faccio vedere in queste immagini, che sono stati costruiti per esempio da Dario Trifelli. Comunque già il Grandfather mi piaceva con questo tipo di forma, però ha questa bozza attaccata alla guardia, diciamo, e il manico era un po' troppo lungo, io lo volevo un pochino più corto. Avevo un coltello molto agile da utilizzare, che avesse un po' queste sembianze, non dico primitive, ma insomma ci arriviamo vicino. Quindi andiamo a vedere come lo manico e poi lo proviamo, lo collaudiamo. Questo video sarà un po' lungo, ma ovviamente spiegare le caratteristiche di questo acciaio, o vederlo in azione, manicare, coltello, e tutto diventa un pochino più lungo. Spero che ciò nonostante lo troviate interessante, come ho trovato io, poter provare, toccare e sperimentare questo tipo di acciaio di cui ne avevo sentito tanto parlare, ma che non avevo mai toccato con mano, mai utilizzato. Allora, è arrivato il pacchetto dalla Finlandia, eccolo qua, lo sto aprendo adesso, avevo già, stavo già preparando il manico e la colla, perché ho preso la lama della Rosselli, quella del grandfather, il coltello grandfather, è una lama con questo acciaio speciale, molto duro, che nasce da uno studio fatto dalle università, che adesso vi racconta tutta la storia. Eccola qua, ultra high carbon, quindi è una lama che ripete le lame degli antichi ottomani, molto dure e flessibili, questa qua arriva a 66-68 HRC, quindi è durissima, dovrebbe tenere molto bene il filo, bella pesante anche. Intanto vedo di preparare il manico. Ecco che il buco è stato fatto, mi somiglia un po' al grandfather, è già bozzato così. Adesso devo fare la colla e fissare la lama, anche ovviamente non è fissata, è solo appoggiata nel buco. Ed ecco che abbiamo messo la nostra colla nel bozzo a bozzo di manico e la lama. Quindi adesso serve solo, ovviamente l'ho messo sotto pressione, e adesso serve solo che indurisca. Ora che la colla è indurita, copriamo la lama e ci prepariamo a sgrossare il manico con la carta vetrata. Ed ecco che siamo sulla buona strada per rifinire il manico. Il suo splendore. Lo so, ma mi piace. Mi piace già il grandfather, che però ha il bozzo qua, sulla guardia, dei bolster ed è più lungo, invece io non volevo il manico più lungo, lo volevo un po' più corto, 10 cm, forse qualcosa di più, dopo lo misuriamo. Ed ecco qua. Bene, bene, bene. Proprio come piaceva a me. Qualche rifinitura e ci siamo. Allora vediamo il peso è di 117 grammi manicato praticamente ma è di 7 cm e mezzo e la lunghezza totale è 17 cm e mezzo quindi abbiamo circa 10 cm di manico mentre l'originale è 21 cm di lunghezza il grandfather originale. Lo spessore della lama è 3 mm e mezzo non lo trovo, non ho la pistola a caldo, loro ho preso un tubo di PVC, l'ho scaldato nell'acqua bollente e adesso l'ho messo in morsa, vediamo se funziona, bisogna scaldarlo però con la pistola aria calda o sulla fiamma che non ho. Alla fine sarebbe sufficiente adesso, tanto per farci un'idea, coprirlo con del cuoio o della pelle, ma adesso lo rotoliamo perché non lo taglio, devo prendere le misure fatte bene, però per dire potrebbe essere un 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 coderò così quindi poi tagliarlo alla dimensione adeguata. Invece poi ho trovato il vecchio fodero di cuoio, l'ho tagliato, ho messo della cera per renderlo un po' più rigido e ho fatto questo. Poi adesso vedremo qua, magari metterò un acciolo nero, marrone per poterlo attaccare. Tra le altre cose, tra le altre cose, la dimensione non è poi così grande perché sta volendo anche in tasca. E quindi basta sganciarlo ed eccolo pronto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lavora molto bene adesso a parte insomma l'impugnatura che poi l'ho fatta a mio gusto e a mia misura. Devo dire che quando si vuole intagliare vedete lavora incide proprio bene il legno e quindi si lavora molto bene. vedete come scava come scava proprio la lama entra nel legno. Poi si può lavorare oltre che di grossa come si dice si può lavorare anche di fino. Guardate come come riesce a speluccare proprio non so se riesco a farvi vedere ma riesce proprio vedete a incidere uno strato sottile quindi si può lavorare anche molto bene di fino vedete come come piano piano possiamo fare di piccoli riccioli guardate devo dire che questa lama di rosselli promossa non c'è nessun problema taglia perfettamente anche doppio allora tiriamo le conclusioni di questo ultra h ultra vediamo se esiste a farvelo vedere di questo uhc ultra high carmone di rosselli coltello poi magari lo rifinirò un pochino ancora volevo fare un poster qua in rame ma non lo so sono deciso perché così mi piace molto lo trovo molto comodo comunque al di là appunto del coltello che ovviamente o vi prendete la lama e vi fate la minicatura oppure vi prendete in questo caso il grandfather della lama e del grandfather che vi metto qua ovviamente l'immagine le conclusioni a parte che mi piace molto questa satinatura questa colorazione che non è la solita metallico chiara ma è un grigio antracite e devo dire che la lavorazione del legno va molto bene la durata del filo mi sembra discretamente buona al momento ho provato a ritoccare un attimino il filo e non ho trovato particolari difficoltà però ovviamente bisognerà farle perdere più il filo per vedere se un'affilatura importante diventa più lunga immagino di sì visto la durezza ma avendo alcuni coltelli in D2 temprati criogenicamente che sono molto duri quindi penso di utilizzare lo stesso sistema non dovrei avere problemi quindi una pietra al massimo una diamantata se servisse ma una pietra al carburundum e poi qualche passata su una pietra mille mille tremila e un colpo di strop e dovrebbe andare l'impressione è quella di avere in mano un pezzo di storia poi può piacere non può piacere possono piacere i carboniosi possono piacere le lame insomma con questa forma perché per carità va benissimo però mi è piaciuta cioè mi ha soddisfatto nell'utilizzo scrivetemi se l'avete provata qua sotto nei commenti se vi è piaciuta iscrivetevi al canale mi raccomando devo arrivare a 10.000 iscritti per potervi dare alcune alcune theatros in più per potervi fare dei video con dei contenuti diversi purtroppo youtube ha messo questo limite da un po' di tempo e quindi bisogna riuscire ad arrivare ai 10.000 iscritti fate iscrivere parenti e amici tutti tanto è gratis poi se anche non seguono però è gratis forza che così riuscirò a darvi dei contenuti anche le risposte che cerco di dare sempre a tutti e vi ringrazio delle vostre molte domande sarà possibile fare un tipo di chat diversa e magari fare anche qualche diretta in cui possiamo interagire parlando i coltelli che sono la vostra passione e la mia passione ovviamente e anche di tutti gli altri video in cui parlo di altri argomenti mi raccomando iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace un bel like condividete il video dai che arriviamo ai 10.000 così potrò farvi dei nuovi contenuti ciao a tutti da Armanno ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti